Senti, mi serve uno tra il pubblico che faccia il vecchio, come in Amici di Marta Flavi, uno che va contro i giovani, che si fida dei genitori, che non corre in macchina, che non beve, un reazionario, che non sopporta la ribellione, che si fida del sistema, uno nato vecchio insomma e che soprattutto mi venga contro. Se non esageri, te lo faccio fare. Queste sono le prime parole che Andrea Pezzi dice a un non giovane ragazzo di 19 anni. È il 1998 e MTV Italia esiste da pochissimi mesi e Toku Show è il primo programma dell'emittente musicale dall'Italia. È lì che inizia la storia dell'ospite che c'è qui accanto a me. Io sono Silvia Rossi e voi state ascoltando e vedendo Tribù, un podcast che vi trasporta in un'epoca che sembra lontanissima e invece più vicina che mai, gli anni 90, quell'epoca in cui tutto sembrava possibile e tu potevi scegliere chi essere. E quindi oggi con me chi c'è? C'è Francesco Mandelli ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Se non esageri, te lo faccio fare. Esatto, esatto. Quello è stato per me proprio in generale è stato un messaggio importantissimo nella vita, cioè che a volte quando ti capitano delle possibilità rischi di strafare, di voler fare troppo, di sbrodolare, eccetera. Invece Andrea è stato un incontro per me essenziale non solo dal punto di vista professionale, perché poi è stato quello che per la prima volta nella vita mi ha dato fiducia da quel punto di vista lì. Ma è stato l'incontro di un essere umano che era completamente al di fuori delle mie dinamiche del paese, di Osnago, perché io vengo da Osnago. È stato quello che mi ha aperto gli occhi su una visione completamente diversa del mondo, nel bene e nel male. Ok, però è come stato un gradino sul quale io mi sono potuto mettere e vedere da una prospettiva migliore tutta la vita. Io racconto spesso questo episodio dove un pomeriggio a casa sua abbiamo guardato L'Avvocato del Diavolo, ok? Un film con Al Pacino e Keanu Reeves. Cominciamo a vedere questo film e lui ogni 5-10 minuti stoppava e mi diceva no, vabbè, ma non capisci cosa vuol dire questa cosa? Cioè questa roba è una metafora, capisci? Cioè cosa sta dicendo lui? Io non avevo mai visto un film così, con uno che mi spiegava tutto quello che era il simbolismo dei film di Hollywood. Quindi Andrea, insomma, in quel momento lì è stato un grande fratello maggiore ed è quello che un pochettino mi ha tirato su, cioè immaginati una scialuppa di salvataggio, tu sei lì che annaspi e ce n'è uno che ti dà una mano e ti tira su questa scialuppa e quindi esci un po' dal marasma di tutto quello che è il rischio di cadere un po' nella mediocrità, di non sapere che cosa fare della vita, cioè per me è stato veramente essenziale. Perché tu in quel momento eri così? Cioè non sapevi da che parte andare? Allora adesso se ci ripenso, non lo so, perché poi il ricordo si confonde un pochettino con tutto quello che è successo e con il percorso. Io ricordo che ero in quinta liceo, che facevo teatro tantissimo, era la mia passione, che suonavo nelle band, anche quella era una mia passione, però facevo fatica a scuola, cioè non me ne fregava niente. Adesso col senno di poi, non so, non voglio scendere in discorsi troppo complicati, però mi chiedo perché uno al liceo debba veramente soffrire così tanto e avere quest'idea della vita che è una rottura di coglioni. Non è vero, non è vero. E invece ero in questo sistema che cercava di tenerti schiacciato, che ti diceva no, le tue passioni non contano niente, tu devi passare, questa roba. Ed ero oppresso da quella roba lì e dalle persone che mi stavano intorno, che consideravano tutte le mie passioni, tutto quello che mi piaceva, una roba da scemi. Quindi sì, ero un po' oppresso, ero oppresso un po' dalla mia famiglia, cioè quel momento adolescenziale con i genitori, c'era uno scontro pazzo, c'era proprio una guerra incredibile in quel momento tra me e mio papà, cose normali, cose che vivono tutti. E ti giuro, ero iscritto a psicologia, ma non avevo idea di che cosa avrei voluto fare. Sì, mi piaceva teatro, ma se dicevo agli altri di Osnago che volevo fare l'attore, cioè mi diceva, cioè mi avrebbero considerato pazzo. E a un certo punto boom, è arrivato sto gancio e mi rendo conto di una roba che in quel momento lì, io ero potentissimo, come tutti i ragazzi di quell'età. Cioè tu da dentro, dal tuo subconscio puoi creare la tua realtà, anche se non te ne rendi conto, tu lo fai. E io sono andato a quel provino che tu racconti, eccetera, eccetera, con la certezza e la sicurezza che io spaccavo, che ero forte, che avevo qualcosa, che ero simpatico, che sapevo stare su un paio. Cioè, non è che sono andato lì e ho detto adesso la mia vita cambia, zero. Cioè, proprio zero, non avevo idea di quello che stavo facendo. Non sapevo che cosa sarebbe successo, però sono andato lì con l'idea che avevo qualcosa di mio da dire, che avevo un mio mondo, che avevo anche nel mio essere non canonico, quella era la mia forza. Cioè io sapevo di non essere bello, di non essere alto, di non avere una faccia televisiva. Cioè io sono un bug. Oggi non succederebbe mai questa cosa. Cioè, nonostante ci sia tutto un tentativo di fare, per me, qua lo dico, qua lo nego, però completamente artefatto di voler cambiare i modelli, poi alla fine diventano comunque stereotipi. E invece Andrea mi aveva preso e la gente diceva, ma tu sei pazzo. Cioè, dentro MTV la gente diceva, ma scusa, però lui? Cioè, ero veramente una mosca bianca. E Andrea diceva, fidatevi, fidatevi, perché io non avevo la faccia da BJ di MTV. Eppure, io dentro di me sapevo, io vado lì e me li mangio. Infatti entro dentro sta stanza ed erano tutti belli, alti, biondi, venivano tutti dai casting di modelli, d'attore. Quindi erano tutti morti. Io entro dentro la stanza, Andrea stava parlando con la cosa, mi guarda, e tu chi cazzo sei? Vieni qua a sederti vicino a me. Perché ero sbagliato, perché ero completamente un errore. Quindi mi siedo lì e dico, boom, è fatta. Adesso proprio veramente faccio lo show. E io sono andato lì con l'umorismo dei miei amici, con l'umorismo di Osnago, che era assolutamente reale, naturale, vero. E Andrea rideva, e Andrea rideva. E a quel punto poi mi ha detto, ok, se non esageri, perché già aveva visto che comunque, vabbè, però lì te la giochi un pochettino. Se non esageri, ti faccio fare questa cosa. Dov'è il problema? Eccoci. Eccoci qua. Eccoci qua. E poi lì è tutto cominciato. Però la roba assurda era che io non avevo, oggi ho molta più paura se vado un provino. Sono molto più con una programmazione di dire, oddio, cosa devo fare? Che cosa gli piacerà? Che cosa non gli piacerà? Però lo devo fare così? Però forse mi devo vestire? Cos'ha? Però forse questo? Hai molte più paranoie con però la, diciamo, l'attenuante che da quel provino non dipende più la mia vita. Certo. Ecco. In quel momento invece da quella roba lì dipendeva la mia vita. Quindi mi sembra assurdo quando lo racconti. Eh beh, ci credo bene, però fa parte un po' anche della nostra generazione questa cosa qua. Perché quando tu dici, non è vero che la vita fa schifo, eri contro i genitori, eh? Io ho litigato tantissimo con i miei genitori perché cosa vai a fare a Roma? Cinema. Se vai a Roma vai da sola. Noi non ti prendo, vado, mia madre dice e se poi entri, fai il provino e ti ammazzano. Cioè, sai quelle robe che ti mettono quell'ansia da genitore per così? Quelle robe che tipo quando ti dici era al cento per cento la paura del genitore, gli dici devi scegliere una strada sicura. Io ho studiato ragioneria, Francesco avevo tre in matematica. Anch'io scientifico avevo due e mezzo. Cioè, hai capito? Quindi hai quella roba del lavoro fisso. Intanto studia una cosa che poi se non ti va bene, almeno puoi fare quello. E quindi questa cosa che tu mi stai raccontando, credo che l'abbiano vissuti tantissimi adolescenti della nostra generazione. Perché secondo me adesso non c'è così tanto, così tante remore del, vai prova. Non lo so, ho questa percezione. Certo, sembra più possibile, dici? Sembra più possibile. Però noi dalla nostra avevamo quella roba lì del, cazzo siamo giovani, sono gli anni 90, è tutto possibile. Tutto possibile. Noi conquistiamo il mondo, ragazzi. È verissimo. Perché c'è il 2000, le macchine volano. Sicuro, è vero. Quindi secondo me quel sentimento lì ce l'avevamo fortissimo. E poi tu, per noi appunto nati negli anni 90, insomma cresciuti negli anni 90, rappresenti esattamente quello che la nostra generazione poi ha vissuto. Perché tu non hai scelto di essere una roba, hai scelto di poter essere attore, conduttore, musicista. Non ho scelto. Questa è la verità. Perché poi io quando parlo parlavo con un regista tanti anni fa che mi diceva Francesco però tu devi scegliere. La gente deve sapere in che scaffale trovarti. Tu immaginati di entrare in un supermercato. Quel detersivo lì è nella cosa di detersivi e quindi se tu non diventi quella cosa poi cosa fai? Io ho pensato, oddio, devo diventare un detersivo. Ma io ho scelto sta roba per non essere un detersivo. Ma chi se ne frega se poi alla fine non sarò l'attore. Cioè tu mi vuoi prendere e far diventare un meccanismo di una macchina di cui io non sono padrone. Ok? E allora non ho mai scelto. Poi chiaramente ci sono dei pro e ci sono dei contro. Certo. E qui torniamo al nome di questo podcast che si chiama Tribù. Dove io racconto le varie tribù degli anni 90. Quindi noi potevamo scegliere chi essere. Certo. E lo facevamo attraverso la musica, attraverso i film, attraverso la letteratura. Quindi tu sceglievi di essere zarro, sceglievi di essere Britpop, sceglievi di essere alternativo. Metallaro, punk, pop. Certo. Diciamo alternativo intellettuale. C'erano mille cose. La cosa meravigliosa è che secondo me quando tu sceglievi di essere una cosa poi entravi, volevi entrare a far parte di quella tribù e quella tribù ti chiedeva credibilità e verità. Cioè tu non è che potevi dire oggi mi metto, non so, la camicia di Fred Perry e mi faccio il caschetto e sono Britpop. Un po' come succede oggi, ok? Perché ho visto delle foto e a quel punto mi travesto sono, cioè tu devi dirmi tutti i nomi delle band, chi ha scritto tutti i pezzi, mi devi saper suonare tutti i pezzi, devi sapere tutti i luoghi, cioè se no sei finto e quindi non vieni accettato. Quindi secondo me oltre a tutto quello che era un discorso estetico da cui un ragazzino parte, perché poi a un certo punto parti diciamo dall'estetica e ti piace quella roba lì, però c'era anche tanta ricerca dovevi appunto, ti ripeto, essere credibile e sapere tante cose e a quel punto, anche perché se ti trovavi, mi ricorderò per sempre una grandissima discussione in una sabato sera al parchetto tra me e un nirvaniano, ok? Quindi io ero oesisiano, io ero Britpopiano diciamo, lui era un po' grunge, in particolare nirvana. Grande discussione su chi fosse un miglior chitarrista tra Kurt Cobain e Noel Gallagher, ognuno portando le proprie argomentazioni, cioè c'era tutto un discorso, ma non era una pippa che era lì, cioè era una cosa, ma stai dicendo, ma questo, ma tu hai sentito questa, quest'altro, allora vieni in macchina, ti metto la cassetta, adesso la trovo, esatto, adesso è tu, ecco sentila, quindi invece c'era quella cosa lì, quindi il discorso della tribù era, partiva da una cosa probabilmente estetica, o magari dall'aver sentito una canzone, avrei visto delle immagini, avrei visto un videoclip, ma poi c'era tutta una ricerca e quella roba lì era anche la ricerca di te stesso, che era bellissima. Senti, tu prima hai detto, non voglio fare il vecchio, ma facciamo i vecchi, perché lo siamo, però ti chiedo questo, secondo te è vero che siamo diventati, ah, ai miei tempi, ecco, che ne sai tu di quello che abbiamo vissuto noi, o è vero che ai miei tempi, che ne sai tu di quello che hai vissuto noi, che abbiamo vissuto noi? Non lo so, allora, intanto io penso sia vera l'affermazione ai miei tempi, cioè, se penso a mio papà che ha vissuto gli anni settanta, eh, lo invidio, perché io ho vissuto gli anni novanti, è vero, però secondo me aver vissuto gli anni settanta era ancora qualcosa di, cioè tutto quello che poi dal dopoguerra in avanti, diciamo dagli anni cinquanta in avanti, ogni decade ha portato qualcosa di meraviglioso, ma c'è stato un lento declino verso poi quello che sono diventati gli aspetti più distopici di questo momento storico, quindi man mano che si va indietro nel tempo, secondo me, nonostante le difficoltà, diciamo così, di una società che probabilmente era anche più ruvida, era anche più, non so come dire, più, stavo ancora cercando qual era la propria identità di mondo tra virgolette occidentale, oggi quella roba lì dell'occidentale orientale non esiste più, c'è una grande globalizzazione e io trovo che ai nostri tempi, tu prima hai detto forse è più facile oggi per qualcuno decidere di diventare qualcosa, allora io dico sempre, magari mi fermano e dicono che cosa devo fare per fare un lavoro come il tuo, di cui io ti giuro oggi non lo saprei perché secondo me ti scontri con tanti modelli, tante cose che sono un po' più complicati da accettare, cioè noi avevamo il modello del mio amico compagno di classe, quindi io vivevo snago e dovevo rapportarmi con uno che viveva in un luogo fisico e temporale molto vicino al mio, oggi con i social c'è un rapporto con i modelli, cioè di un ragazzo della tua stessa età, della tua stessa diciamo categoria che però vive a Los Angeles e fa una vita completamente diversa e tu dici ma cazzo io sono di Osnago, fa cagare, Osnago Dio fa schifo, mi deprimo eccetera eccetera, probabilmente un tempo tu vivevi quel momento lì in cui ero snago come un momento di incubazione ma non eri così infelice ok, oggi probabilmente è un po' più complicato rapportarsi ai tanti modelli diversi che ti propongono, ti propone la tecnologia, sì per me, a me viene da dire ai miei tempi era così, ieri parlavo con un ragazzo che suona con me diceva l'altro giorno abbiamo messo la compilation festival bar 96, era una mina dopo l'altra, cioè era una mina dopo l'altra adesso sembriamo anziani però quello che voglio dire è che no che però quelle canzoni lì sono quando tu le ascolti per noi assolutamente rappresentative di quel momento storico e tu automaticamente fai un viaggio nel tempo che ti ricorda da dove sei venuto, da dove sei partito, che cosa succedeva nel 96, altre sì dicevamo adesso d'estate escono quattro canzoni che sono più o meno uguali con un rap e uno famoso e un'anziana che fa il ritornello, ce ne sono quattro, ce ne sono già state altre quattro alle due estati fa quindi quando le ascolteremo tra vent'anni ma questa è del 2023 o del 2020 no aspetta non mi ricordo ma questa era orietta berti o patti brava capito è tutto un grande una grande pappetta dove comunque le cose non durano nemmeno più lo spazio di un'estate durano due mesi e poi un mese e poi dopo quella cosa lì c'è sicuramente una velocità diversa viene tutto masticato molto più velocemente cioè quando è uscito ritorno al futuro per due anni abbiamo parlato solo di ritorno al futuro chiaro cioè per due anni non per un mese e mezzo ok quindi secondo me c'è una velocità che ti consente di far sedimentare meno le cose e quindi tutto quello che è quella roba lì che è cultura popolare intrattenimento che ci ha formato da un certo punto di vista oggi è tutto non non una formazione ma è solo consumo ecco secondo me oggi c'è un consumo diverso di quella cosa lì anche perché l'accesso a quelle cose a quelle cose era diverso certo io ora racconterò un ricordo che ho con te era il 2001 primo anno di università io già però ti conoscevo perché ero venuta a fare il pubblico a videoclash non ci credo mai fatto la porta sfida o no non mi ricordo ma era videoclash quello che c'è che che il pubblico era seduto per terra si era videoclash no no ero lì ero intermuta un po' di volte easy tranquilla arriva da messina quella che attualmente è una delle mie migliori amiche nonché socia del progetto dei trentenni stefania a fare l'università noi siamo ai magazzini generali al bancone c'è francesco mandelli io dico alla stefania se c'è francesco mandelli ma come chi è è un mito ma non vedi mtv no mtv a messina non prende vai diglielo diglielo vai stefi diglielo mi hanno detto che sei famoso ma mtv a messina non prende abbiamo passato una serata ovviamente divertentissima perché questa cosa è stata esilarante quando hai capito a che punto eri cioè dici dal punto di vista del del cosa lì della popolarità della gestione allora ti devo dire ci sono un quel giorno no ma va allora a parte che adesso riguarda riavvolgo un po il nastro mi ricordo dopo una delle prime puntate di tokusho dopo forse un paio di puntate io sono al maxi sport merate a merate è una ragazza mi dice ma tu sei quello che ha fatto la prima proprio la prima ma tu fai quella cosa su mtv ti ho visto su mtv sei il non giovane forse è stata la prima persona che mi ha riconosciuto e mi ricordo proprio questa cosa questo effetto ed è lì è come cioè lì ok nel senso che è purtroppo è come una sostanza illecita diciamo una volta che apri quella porta lì un livello c'è c'hai proprio un livello di serotonina dentro perché purtroppo a 18 19 anni quella roba lì dell'ego è devastante quindi lei mi fermò mi chiese un autografo e io ti giuro cioè tu cresci immaginati cioè non lo so se io penso alla diciamo alla definizione di porta spazio temporale questo è quello il momento più vicino ok tu switchi dall'essere uno di osnago che non si capisce a attenzione una persona mi ha riconosciuto e quella roba lì nel 98 non era così automatica perché cioè o ti vedevano in televisione oppure non esiste non esisteva quella cosa quindi lì c'è stato il primo momento di ho capito che qualcosa stava succedendo poi ci sono stati un paio d'anni in cui ho lavorato sempre con andrea su tokusho poi su sushi però ero in onda solamente una volta alla settimana quindi si cominciavano a fermarmi a riconoscermi poi dall'ottobre 99 da quando io ho fatto select ero in onda tutti i pomeriggi su mtv e lì è stato complicato cioè lì è stato assurdo lì è stato veramente veramente assurdo e ti dico secondo me per un ragazzino di 19 20 anni non era facile gestire quella roba lì cioè perché poi io ho scoperto anche risvolti negativi di quella cosa per cui passavo in corso di porta ticinese dove erano tutti più o meno alternativi io mi sentivo alternativo perché ascoltavo un certo tipo di musica eccetera però facevo parte di un emittente che era veramente pop quindi io passavo per 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 ticinese mi gridavano mtv merda così perché ma io lo so ma erano tra virgolette gli haters che esistevano però te lo dovevano dire in faccia a quel punto io a volte rispondevo cioè a quel punto era ok uno scontro alla pari ecco questa è per esempio una cosa di cui io sono molto contento perché ho vissuto un momento in cui tu se ti stavo antipatico me lo dovevi venire a dire in faccia e io potevo scegliere se non considerarti o risponderti ho preso un paio di schiaffi perché dentro il rolling stone a milano alle tre del mattino tutti ubriachi qualcuno mi dice oh mi stai sul cazzo tu gli rispondi una roba che riguarda sua mamma non troppo carina a quel punto prendi ho preso ho preso una sberla però ti posso dire ma centomila volte meglio ma te lo dico anch'io perché è un grado di una cosa non bella però non ti rimane la frustrazione del messaggio social che tu dici adesso io voglio trovare questo voglio spiegargli che è uno scontro alla pari e io da quella cosa ho imparato una lezione ovvero che quando sono le tre del mattino qualcuno ti dice qualcosa tu devi semplicemente scomparire esatto e quindi tutta la gestione della della popolarità lì è stata abbastanza complessa per poi arrivare diciamo ai soliti idioti però facciamo un salto di 12 13 anni avanti quindi quando è uscito il primo film dei soliti idioti lì è stata una roba che ha cambiato ancora tutto perché non potevo andare in giro perché era difficile uscire di casa perché era difficile andare all'autogrill fare la pipì senza che qualcuno mentre facevi la pipì ti facesse una foto cioè c'era quella roba un po' madness e ti dico quella non mi è piaciuta per niente quella proprio ha cioè quello lì ho capito ok sto gioco per me è finito l'ho visto mi è piaciuto non tornerei mai più a quel tipo di 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 popolarità cioè proprio una roba brutta che non non ti fa andare in giro che ti cambia completamente tutto tutto il modo di vivere la tua quotidianità cioè quella roba lì infatti poi fatti due film dei soliti idioti io ho fatto retromarcia ho detto ok voglio vivere il mio lavoro senza dover avere questo tipo di di sensazione brutta quando vado in giro ok quindi sì adesso la gente mi riconosce giustamente una mia amica che si chiama mia ceran diceva mi diceva l'altro giorno però vedi tu hai fatto ridere la gente e secondo me quando fai ridere la gente avrai per sempre un posto nel loro cuore e questo è molto vero cioè quando tu fai ridere qualcuno gli dai delle belle cose gli fai passare del bel tempo poi anche se tu non sei in onda tutti i giorni non fai un programma tutti i giorni non esci in un film tutte le tutte le stagioni eccetera però comunque loro si ricordano di te non è quella roba di una roba bellissima ecco quello è un grado di popolarità che mi piace molto perché non è a oddio è la cosa dell'ultimo secondo e quindi c'è una sorta di follia nel riconoscerti ma è una cosa che dici o lo so che tu molto spesso mi dicono lo so che tu non mi conosci ma tu per me sei uno di famiglia hai fatto ridere le persone però le hai fatte ridere senza snaturarti nel senso che c'è quel ragazzino lì dell'oratorio di osnago è come se fosse non è come se cioè ecco in quel momento in questo momento quindi quella percezione lì non l'ha quando hai a che fare con ti ripeto non è che ci conosciamo così bene però sono sensazioni no solo quelle robe di empatia che senti no e quindi parlando di empatia ti chiedo per fare comicità ci vuole più empatia o più cinismo allora per quello che riguarda il mio modo di fare comicità a me interessa raccontare qualcosa di vero cioè mi interessa ho capito che nel mio modo di fare comicità c'è quello che io facevo all'oratorio negli anni 90 cioè prendere un personaggio della vita reale e metterlo in scena sul palco quindi bisognava fare una recita x e io al posto di fare il mio personaggio così dicevo ah ma questo qua potrebbe essere non lo so mario del cassuton che era uno di osnago e quindi io poi andavo in scena facendo tra virgolette una specie di imitazione era era un mostro creava un nuovo personaggio e gli attaccavi quella roba lì e raccontavi qualcosa di vero e la gente che cosa fa è vero quella roba lì esiste io l'ho visto lo riconosco è vero e allora secondo me la verità a quel punto ti consente di avere grandi libertà anche rispetto a tutto quello che il tema molto complicato del politicamente corretto cioè se tu racconti una cosa vera per quanto scorretta sia vera non ti piace ti offende e lo so ciccio però esiste e noi al posto che offenderci ci facciamo una bella risata magari domani ci svegliamo freddi e quindi quella roba lì secondo me per me è la cosa essenziale se una roba non racconta nulla non me ne frega niente però questo genera empatia perché appunto a io mi sento come quella roba lì e poi c'è il cinismo di dire ok raccontiamo una roba cattiva raccontiamo una roba cattiva un po scomoda che nessuno ha il coraggio di raccontare cioè dicevamo con fabri spesso noi abbiamo fatto tanti personaggi terribili gente terribile cioè rugelodecelli è il male fa schifo però gli voglio bene proprio per i suoi difetti cioè perché comunque non dobbiamo arrivare a dire ok dobbiamo essere tutti perfettini tutti omologati quella roba lì noi la mettiamo in scena chiaramente la esageriamo diventa una caricatura però la volgarità esiste l'altro giorno ero con mio padre gli ho detto che avremmo rifatto un film dei soliti idioti e mi fa sì però ancora con le parolacce gli ho detto ma papà quello lì esiste è così e non lo so però al posto di cazzo non gli puoi dire dai cavolo dai cavolo Gianluca ho capito ma papà ma non fa ridere ma cos'è non esiste cioè tu devi raccontare la roba com'è se tu vuoi assumerti veramente le responsabilità di fare il comico vai lì racconti qualcosa di vero e devi avere anche così devi accettare anche che qualcuno come è capitato a me mi fermasse e mi dicesse a mia moglie piacete tantissimo io veramente non so come mai io la sento ridere e rido e ride io la sento di là che ride vado a vedere e sta guardando voi e veramente voi mi fate schifo fatti una domanda tua moglie è là che passa dei momenti meravigliosi che evidentemente con te non basta più e tu ti arrabbi per questo però devi accettare il fatto che a me tanta gente mi abbia proprio detto io vi odio ma ti posso dire ma io sono felice di aver fatto una cosa che o la ami o la odi piuttosto che essere lì un po' in mezzo che cioè ma non perché non è il mio io sono questa roba qua io sono sempre stato questa roba qua ho sempre fatto una scelta che magari era diversa anche a scuola mi vestivo in maniera diversa i miei professori non capivano che cosa volessi fare chi ero chi non ero ricordo una volta la prof di matematica mi ha fermato e mi ha detto ma tu ti droghi se lo giuro non mi drogamo cioè ma perché sei così perché perché tu hai davanti un ragazzino di 16 anni e non la tua unica preoccupazione non può essere che so le equazioni prof non me ne frega un cazzo delle equazioni non me ne fregherà un cazzo delle equazioni e tu devi accettare che io ho fatto liceo scientifico e non me ne frega niente delle equazioni perché mio padre che era un medico mi ha detto vai a fare liceo scientifico perché quando fai l'università e tu farai il medico tu farai il medico i primi due anni vedrai gli esami saranno tutti già di robe che hai fatto del liceo scientifico ma io non dovevo fare liceo scientifico cioè dovevo fare non so linguistico dovevo fare un'altra cosa e mi hanno infilato dentro quella roba lì prof siamo qua ci hanno infilato lei non ha cercato me io non ho cercato lei però famo a capire se mi faccia vivere non mi drogo prof mi piacciono gli oasis è diverso senti mi sono guardata un po di robe prima di questa intervista abbiamo quasi finito l'ultima puntata di tokusho c'erano ospiti pinchezze paolo rossi poi ho visto generazione mille euro e nel cast c'era paolo villaggio poi insomma mi sono guardato un sacco di roba detto non vale rispondere tua figlia giovanna e la tua compagna luisa ma c'è una persona che ti ha folgorato che ti ha cambiato la vita che mi ha proprio cambiato oddio sicuramente sicuramente c'è sicuramente c'è però in questo momento no sai che cosa le uniche persone che mi hanno veramente cambiato la vita sono i fratelli gallagher da un certo punto di vista perché io vedendo quelli lì che non erano particolarmente belli non erano cioè anzi come dicevamo prima noelle era un mostro cioè comunque i denti marci cioè al naso era tutto strano eccetera e quello mi ha dato la sensazione che non se tu avevi un talento non importava quanto bello eri eccetera eccetera da dove venivi se tu avevi il talento era la tua più grande arma io sono cresciuto in un mondo in cui il talento era la vera discriminante ok oggi non è così e sfido chiunque a dirmi il contrario oggi non conta più solo il talento il talento è uno degli delle cose però ecco con quel modello lì di due scappati di casa che venivano da mangi da un soborgo di manchester e avevano un grandissimo talento una grandissima ambizione una grandissima diciamo self confidence che alcuni vedevano come arroganza altri vedevano invece come grande sicurezza tu potevi andare e spaccare tutto e conquistare il mondo cioè io quando ero dentro mtv lo dico spesso ho fatto delle robe assurde anzi se qualcuno dei della dirigenza di mtv sta guardando io chiedo scusa perché io ho fatto delle robe ma assurde ma da quanto io ero convinto di essere indispensabile per mtv cioè nel senso che c'era meraviglia proprio l'arroganza dei gallagher cioè io dopo che ho fatto select per un anno ok io non volevo più farlo e loro mi propongono un programma a roma che si chiama roma live di presentare roma live quindi mi propongono di avere un programma tutto mio tutti i giorni in onda eccetera eccetera io gli dico no io voglio fare mtv mad che era una roba che erano otto puntate in onda alle 11 di sera e io gli ho detto di no e loro mi hanno guardato come dire ma come no cioè tu non puoi dirci di no cioè tu hai un contratto sei nostro perché poi la cosa era quella tu sei nostro io gli ho detto no non me ne frega niente di fare questa roba e mi ricordo proprio come i genitori come dire scemo è stupido è non solo abbiamo speso tanto per farlo studiare esatto la cosa assurda era che io di cui non mi rendevo conto ma era un po il coltello dalla parte del manico dice abbiamo speso un botto di soldi di stipendi di cose adesso questo non vuole fare roma live cioè le cose sono due o lo buttiamo fuori ma se lo buttiamo fuori questo domani lavora da un'altra parte perché in quel momento se rientro io mi ricordo questa cosa dopo dopo l'anno di select mi chiama carlo freccero con tutta la dirigenza rai per farmi presentare top of the pops e io gli dico di no e loro è stupido cioè stupido e questo è veramente e io mi ricordo siamo usciti di lì ho visto il mio agente del tempo incazzato per l'unica volta come tu non puoi dire di no cioè io ti ho portato lì e io dentro di me ti avevo già detto però a me non me ne frega niente di fare top of the pops perché io voglio stare dentro mtv e carlo freccero e questi qua sicuramente massoni cioè tu immaginati gente veramente cioè sfere altissime ma io ero un bambino di vent'anni stupido cioè non stupido non me ne io andavo per la mia strada io ho detto guardate non mi interessa perché io voglio rimanere dentro mtv e loro ma tu hai capito cosa ti stiamo dicendo di presentare top of the pops su rai 2 lo so però io preferisco rimanere dentro mtv perché a un certo punto mi ricordo sono usciti loro dalla stanza e ci hanno lasciati e questo è un segnale quando vi succede questa cosa ragazzi vuol dire che la roba non è andata bene cioè se uscite voi e loro rimangono dentro c'è un 50 e 50 ma se loro escono dalla stanza prima di voi vi lasciano lì vuol dire che c'è qualcosa di brutto e io sicuramente sono convinto che anche oggi quella scelta la pago nel bene e nel male ai qua davanti fratelli gallagher li devi convincere è l'inizio del film della tua vita e li devo convincere a tornare insieme ma ti dirò un solo ma ti dirò questa cosa nell'ultimi due mesi sono stato a colloquio con liam due volte la prima è stata alla guarda era la semifinale di di ritorno di champions quindi c'era in milan inter in televisione l'abbiamo guardata insieme in questa casa che lui aveva noleggiato a como per il matrimonio però il matrimonio poi non si è fatto perché c'è stato il covid quindi io sono molto amico di nick chester dei jet mi chiama e mi dice senti liam mi ha invitato a casa sua però io da solo non ci vado ci vieni con me che problema c'è quindi sono andato a casa di liam dove c'era liam i suoi figli tutta la sua famiglia eccetera eccetera tanto una persona meravigliosa c'è la persona più simpatica e vera che tu ti possa immaginare e con lui diciamo e c'era nick con me abbiamo abbiamo un po' attraversato l'argomento e poi ne abbiamo parlato invece con sua moglie che anche manager e non c'è speranza in questo momento no perché lui c'è da un certo punto di vista fa tutto quello che faceva con gli oasis ma da solo senza l'altro che di rompere scatole cioè lui è il capo in questo momento e quindi per ritornare dentro quella roba lì dovrebbe esserci veramente parti accordi economici tutti complicati da discutere quello che io ho cercato di dire perché ci hai provato sì cioè in qualche modo io ho cercato di dire a me che torniate insieme come band non me ne frega più niente cioè io vi ho visto nel 97 vi ho visto cioè in situazioni io vorrei che voi faceste la pace come fratelli perché come messaggio all'umanità cioè voi dovete fare questo cioè fa niente il business fa niente la band fa niente tutto questo ma come fratelli come esseri umani decidiamo di parlarci e di porre fine a questa assurda faida umana che c'è capito io sono preoccupato per loro come uomini come cioè come anche l'esempio che dai nipoti cioè lo zio non parli con lo zio da 12 anni da 14 anni capito quindi a me preme che loro facciano la pace come come persone e della band non me ne frega cioè non è che non me frega niente chiaro che se fanno la reunion vado sono in prima fila a vederlo però quello diciamo è quello che cercherei di fare di convincerli a fare pace come persone però secondo me non gli dico della band gli dico questa cosa qua così almeno poi non ci pensa facciamo un concerto grazie francesco è stato bellissimo grazie mille grazie mille ciao